I dipendenti del Comune di Vallo della Lucania non hanno avuto lo stipendio dell'ultimo mese. A mettere in risalto la problematica attraverso un suo post su Facebook è stato Pietro Miraldi, consigliere di minoranza del Comune di Vallo della Lucania, in merito al mancato pagamento nell'ultimo mese dei dipendenti dell'ente comunale. Sembra che ci siano problemi di liquidità, spiega il consigliere. Eppure, con delibera di giunta del 9 gennaio 2019, il tesoriere ha anticipato, come previsto dalla normativa, la somma di circa 3 milioni di euro, quale anticipazione di tesoreria e l'ex articolo 222 del Tuel stabilisce cosa fare con queste somme. Come avranno speso questi soldi? Perché non hanno pagato i dipendenti? Si chiede il consigliere Miraldi che, unitamente ad Anelina Chirico, altra consigliera del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Vallo della Lucania, viste le notizie diffuse, chiedono al responsabile dell'ufficio ragioneria, signor Cataldo di Santi, di fare avere la destinazione analitica delle somme di cui è l'anticipazione. La certificazione di avvenuta anticipazione della somma di circa 3 milioni di euro al comune di Vallo della Lucania. Infine fanno richiesta a revisore del comune di Vallo, dottor Angelo Minenna, di assicurarsi della correttezza di quanto esposto. Ad intervenire sulla questione è stato anche il consigliere di opposizione del comune vallese, Nicola Botti, che così si è espresso attraverso un suo post su Facebook. Il comune di Vallo della Lucania, nei primi giorni del mese di gennaio di quest'anno, ha ottenuto dalla Banca del Cilento, banca tesoreria, anticipazioni, prestito, per un totale di quasi 3 milioni di euro. Ciò nonostante non ha pagato gli stipendi ai dipendenti. Come sono stati spesi questi soldi? Vi daremo presto notizia. Ha concluso così il consigliere di opposizione, Nicola Botti.